Ciao a tutti caciotti e benvenuti in questo luiso episodio di nanananananananananananan FAPGRAFF 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 Dato che Vrent nello scorso episodio ha fatto il falegname con la camicia quadri e anche il toscano perchè non so se lo sapete ma quando uno si fa crescere la barba come si è fatto crescere la barba Vrent automaticamente nel tuo armadio compare una camicia da boscaiolo con l'ascia e quindi è tutto molto più comodo allora dato che Vrent sta facendo il boscaiolo il segaiolo cioè insomma quello che ecco io nella scusa puntata ho piazzato queste cose che si chiamano fluidact e qua mi dice che sono empty perchè sono empty e io gli ho detto che volevo il farmaco generico e lui mi ha risposto che questa è una cosa si ma non dovrebbero essere empty perchè non dovrebbe essere empty ma non è che sto coso dovrebbe collegare sto coso e non quell'altro coso mi viene il dubbio a me credendo e sceltando siamo dei fapper ho 9 sapling d'esta roba ci metto una torcia vicino ma da qua nasce un cazzo quindi io mi hazzo e beh dovresti essere felice dipende dal tuo orientamento si ora io non lo so però qua dovrebbe uscire un po' d'acqua qua mi dice fluid water però mi dice empty qua ma arriva o non arriva? eh no che non arriva hai visto che tra il tank prima e quello dopo tipo sia in output o qualcosa del genere? si si no guarda qua c'è la cosa rossa che vuol dire output vedi quella sotto e di la non c'è niente che dovrebbe vuol dire input ma che l'hai fatta a fare i tank sopra? eh no metti caso eh ma metti caso che ci serve dell'acqua a portata di mano o a portata di tank sempre a portata è capisci? ora li possiamo più perchè questo è settato in output? ehm è tutto questo mi puoi uccidere per favore? oh si ok ci siamo ehm allora io qua c'ho questo che non mi serve non ti serve ma non ti serve o ti serve ma non lo vuoi dire è un pochettino tutte e due mode input mode output ma che cazzo no vai in input quanto vogliamo farlo lungo sto cosa? no penso che basta no? si si basta basta ah no può essere solo in output perchè lo da verso il basso no lo devi dare verso l'alto ma che cazzo sto facendo? se questo è un output no e no e no perchè se questo più quello fa meno quello allora 3 più 2 fa 7 esatto esatto allora ehm si considerando queste mie ultime considerazioni se ho 2 tin e un lead e faccio una cosa di questo tipo dovrebbe uscire fuori un opaco item duct e la stessa grandezza di questa faccio pure altra cosa no? ma la grandezza di cosa? un pochetto più piccolo no si stessa grandezza giusto? ma boh non lo so dimmi te eh si si stesse dimension si si stesse dimension e mo faccio lo stesso eh bravo bravo però qua non passa un cazzo cioè io ci ho messo il coso però non esce ma è arancione la vero eh no non è arancione qua 1 2 3 eh si che è arancione aspetta è arancione si? eh si che è arancione quindi qua è output qua è input sei sicuro? eh si che sono sicuro qua non esce un cazzo no dico che non esce un cazzo eh penso di si poi non lo so ah ok ora esce eh hai visto? quando te l'ho detto io si ora funziona quando sono riuscito a metterti ora però perchè qua non funziona water 4000 su 4000 e qua invece continua a scendere è normale è normale c'è la crisi fluidact 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 è per i fluidi ovviamente ma quanto costa almeno va serve la ricetta? eh no 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 è un farmaco senza ricetta oh merda ah allora va bene ok allora si output food water che è come dice ah no come lo dice food water come dice empty eh allora scusa provo ripiazzarlo quando quest'ultimo ah adesso si spiega tutto invece no ma domenicenti ma la tana è empty vedi 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 che le apparenze ingannano però qua deve comunque arrivarci ma dovrebbe arrivarci l'acqua non è questo no non è non è non è ma sì che c'è ma sì che ci deve arrivare no non è per non per forza ma ti dico di sì aspetta veniamo a fare così 3 2 1 ciao a tutti i ragazzi sono tu ah no ok video già inizia ah why do you do shit like this I don't get it i ma! ma che c, wà che verso questo verso ma che c itsas fa' ah ma sta con... ah ma bravo bravo questo mi piace ehm poi al massimo costruiamo perchè so che con build craft c'è il builder che consente di fare tipo un progetto di una di una casa e te la riproduce lui quindi facciamo tipo infinite stanze noi automaticamente con i builder però io avessi anche bisogno di un paninozzo ma ne avessi tanto ecco qua bravo ma fatta ammazzare come faccio io no? eh ma no è poco produttivo vabbè non vorrei fosse il contrario sembra strano proviamo a mettere il contrario se ho sbagliato sti blocchi full water qua dentro non si dovrebbe vedere così oddio sono caduto oh my god non è che esce vero? eh si sinceramente si cosa? ma di che cosa stai parlando te poi? hm? ah no no niente lasciamo stare ma di che parli? ma non lo so ma io non lo so ma ogni tanto c'è proprio un... non si sento non ci sto capito cosa... allora liquiduct no senti ma... no ma questo non è un liquiduct è un... eh no fluiduct è la stessa cosa fluiduct guarda io ce l'ho appresso un po' fit the beast quanto abbiamo detto che costa allora? eh... sono... 25 grammo ah ma non è... non è a confezione no scusa devo aver capito male ma non sono in una farmacia eh... no diciamo che c'è una serra privata ecco eh... si vende al grammo ecco eh... adesso capisco adesso capisco aspetta aspetta qual è il numero della guardia di finanza? scusa no perchè devo chiamarlo ma non è per te eh? boh no non lo so sinceramente no ma non è non hai visto la nuova legge hanno chiuso la guardia di finanza eh mi dispiace ti avrei dato pure il numero ma no ah ok eh si ma com'è? eh non lo so non so quale fosse il numero guarda sta porta oddio aspetta flui oddio che porta? questa la porta di sakura eh eh vabbè questa questa la metto di là perchè serve un'uscita questa no? la maremma bonita ho capito ho bisogno di un servo che c'è? ma avevi visto che lo schiavismo è stato abolito tipo mille anni fa o qualcosa del genere ma servo rail no non è questo peccato che non stessi scherzando machine arm no è questo ho bisogno di un pneumatic servo ma ah pure un servo pneumatic proprio oddio oddio raccoglie i cotoni e ha velocità di allu no, cattivo ovviamente, cattivo, a cuccia andiamo in ferro e del glass, glass continuiamo ok, questo va bene ma io direi pure di prendere tutto sto regno ok, ok, ho installato il servo ho installato il servo, quindi se ora faccio eh, infatti ora si vede, ora si vede che cosa hai i libretti di istruzione come al ligera? ha cambiato colore ha cambiato colore il servo? no no, no, no no, niente ok, ora deve funzionare, infatti ora funziona bisogna attaccare un servo ma funziona bene perché invece quello degli item funziona anche senza servo la smetti ok, quindi ora posso riattaccare la terra sei malvagio perché hai messo un'altra porta? mica per ogni stanza devo mettere una porta una porta, una porta, una porta ah, hai già capito, comunque già ma porco ciu disco ma tu stai registrando? si, si che sto registrando, mancano mancano... la marimma impestata 10 minuti vabbè allora, ha già fa una cosa che stu generai ah, ha già spustato stu coso perché ma scassa stu cazzo e anche stu coso ah ma che ci mettiamo dentro l'altra stanza? scusa un attimino quale... ah non lo so qua cosa ci metteremo poi? ma se tu parti già con questo presupposto perché lo faccio non dovrei mai da nessuna parte tu devi fare le cose e basta cosi che penso non ci posso credere ma ha fatto come... ah no, ok c'è il tunnel non ci posso credere non ci posso proprio credere lascia stare comunque il tetto se possiamo facciamo uno più grande perché io ho necessità di saltare no, no, sono serio chi è che ti ha muzzato? un ekate è un sacco di... un ekate un ekate non è finita la spalla o non ho mai fregato pure quella? ti è finita perché quando muori non perdi niente? te lo ripeto perché non passa più l'oro? eh? perché non passa l'oro? what the fuck is this? eeeh... c'è un po' dei crisi... delle cose varie... secondo me ha bisogno di un salvo pure questo cazzo oh, la smetti ma che cosa oh? no, io niente no, io sto a ridere perché... perché? sto leggendo i fumetti... i fumetti... eh, ecco, ecco, messo il servo no, beh no, tipo lo sarei come scusa per dire no, non sto ridendo perché sto dicendo servo e poi però dico sto ridendo per il barzelletto, anzi... eh, naziste, ok, no, volevo dire basta, ma lo sai che ti denunciano queste cose, sì? a te no, eh, c'è il video tuo e quindi denunciano te blacklist oddio, no, non è in tema blacklist no, no... no, no... no, basta no, no, basta allora... eh, fa parte dello scherzo eh, no, forse... cioè oh, però qua non fa uscire più niente, eh, che cazzo stuffed items, ma perché stuffed... ah, forse devo mettere per forza uno qua tutorial oddio, se non mi smetto di casca... madonna, ma... st albero, quanti... c'ha tutti i rami... stronzi, tutti... ma... oddio, guarda quanto è rosso cosa? co... no, il... il servo, attio... il... il... il coso del servo... il... il filter, lo chiamerò filter, non più servo, su qua nooo... così funziona? boh... ehm... ha bisogno di energia, gli do una leva c'è una... c'è una cosa... c'è una bar... oddio, aspetta, aspetta... oddio, sono riuscito a mettere una torcia... e una leva nello stesso blocco, ma che cazzo... ovviamente viene a vedere... guarda eh... guarda eh... guarda eh... no, 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 look this... arrivo... che succe.... che è successo? guarda, guarda... oddio, what the f... eh... che cazzo... ma da quando si può fare sta cosa? ah boh allora fanno in formato item d'acqua ok qua fuori abbiamo tipo una selva di sakura che non finisce più incazzata magari una cosa così assurda che ok qua non c'è bisogno del pneumatic che serve serve, nemmeno serve che sta a fa? perchè va in giro come un haidi tra l'allero cioè non puoi capi abbiamo una foresta ho messo altri 11 sapling cioè tipo tra un giorno usciamo qua fuori e non so che cacchio è bravo questo è lo spirito e allora bene questo l'ho fatto, riposizionato i letti wewewe poi e niente ora potremo iniziare con i macchinari d d tinker construct secondo me perchè non so se hai presente cos'è tinker construct aspetta fammi aprire qualche tinker construct o strutt o strutt strutt strutt, grasso animale strutt, no la sugna la sugna ci abbiamo i microblocks no 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 serve per costruire degli attrezzi personalizzati praticamente ah eccola ah eccola qua esatto 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 ecco esatto i piccaccio figli ma c'hanno qualche pure pure qualche effetto in più magari barley cosa fa barley oh barley magari più veloce ma c'è pure una padella oddio è veramente una padella io stavo a scherzà tinker come si chiama tinker e no si chiama frying pan cos'è sta cosa ser tank pen padella per friggere ma che cazzo frying pan ma io la vedo vuota cazzo ah no stone pen frying pan ma cazzo tinker's construct eh non lo so mai ci cuoci le uova allora tinker's construct le site ci sono le cose le falci proprio quelle della morte ok è pericoloso calma va bene parliamone eh come si inizia sta cosa eh guarda pure la cimitarra c'è cutlass ci hanno dato dei libri all'inizio del gioco tu ovviamente tu l'avrai buttato io giustamente il mio l'ho ottenuto è questo qua lo vedi? ce l'ho in mano è un libro che ti danno all'inizio del game aspetta io ce lo dovrei vedere da qualche parte ah no aspetta l'hai buttato l'ho ripreso con i shit e poi l'ho ripreso un'altra volta allora eh si chiama si chiama materials and you eh non lo trovi eh non lo trovi di 14274 ah si si ecco lo materials and you eh ce ne so due eh pendine la copertina bianca o quello rosso? no bianca 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 eh si va bene ah io clicco che sto registrando quindi eh allora si può anche craftare comunque surviving the first day and beyond volume 1 by Skyla 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 ah ah ok table of contents getting started I don't give a shit about this stuff I don't give a shit shit mode ok abbiamo bisogno di un blank pattern e di una stencil table che cazzo ti... 64 libri vai vai leggi leggi no abbiamo bisogno di una blank pattern e di una stencil table ci pensi te? do cazzo aspetta allora eh sono sticketti e legno ah eh si 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 va bene vabbè vabbè ti aiuto anch'io va se non droppo robe a caso anzi tu fai la stencil cake crack poi dammela a me cosi anzi ma usa la star crafting table qua per terra cosi vedono tutti ah ok ahm si ehm si si la prima cosa da fare un po di wooden play vabbè 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 io ti rimetto la crafting table un po di wooden play no devi premere C no su quel blocco Dio pavolo ecco ora ti ho dovuto venire ce l'ha inventare ok ahm ehm si poi eh esatto ah perchè non crea uno stick perchè l'hai messo sbagliato devi mettere in un'altra direzione faccio io guarda perchè devi considerare che è così quindi fa cosi e ti hai gli stick ora fai no fai cosi ora prendi due uno di questi e fai cosi prendi uno di questi fai cosi e fai cosi ora fai cosi poi fai cosi 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 fai cosi e fai cosi e ora abbiamo uno stencil table ahahah comunque per questo episodio direi che può essere tutto no dai abbiamo ancora 20 secondi avanti avanti veloce veloce ah 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 abbiamo bisogno di un part crafter eh questo lo facciamo nell'altra stanza no? effettivamente hai ragione cioè tu lascia vai asceggia comunque per questo episodio è tutto noi vi ispitiamo nel prossimo episodio sul canale è diverentemente iscrivetevi al suo canale che non troverete in descrizione perchè non l'ho messo mai ricorderò di metterlo e io vi saluto ciao a tutti ciao ciao